E ancora, Vittorio bisogna dirglielo che tocca a lui perché c'è una targa pure per lui, lo sapeva di essere premiato, sì, Vittorio preparati, vieni, abbiamo vissuto anche noi una gran vita, tu poi non ti sei fatto mancare nulla, anche relativamente alla serata, non ti sei fatto mancare neanche il calcio nel senso di football, guarda tu, in fondo stiamo seguendo sempre una stessa strada, eravamo ragazzi, rieccoci qua, Vittorio Cicchi Gori! Adesso facciamo ridere? Beh sì, speriamo di sì, certo perché se abbiamo perso il senso dell'umorismo siamo finiti, foto vai! Vai, con sorriso! Abbiamo fatto una vita insieme, ogni attore e produttore ha una vita in comune, sono tante vite che si incrociano, è vero! Capita una serata come stasera e ci rincontriamo! Sto parlando della sua famiglia io anche, avevo un padre e una madre assolutamente meravigliosi, persone rare! Siccome però mi sembra che sia in onore della Calabria, io ho due ricordi con mio padre, uno una fotografia del lupo della Sila, che ho cercato disperatamente a casa per portarlo a farvelo vedere, perché era proprio, si sentiva l'aria della Calabria e di tutto, e poi il finale dell'armata Brancaleone, quando gli otto sono crocifissi lì a Crotone, perché arrivano gli arabi che li vogliono dare. Questi sono due ricordi, due franco bollini di tanti film che ho fatto. Fatti leggere la motivazione, senti eh! Il Nasuto era una targa che noi dovevamo consegnare, diversa dalle altre, perché la dovevamo consegnare il 13 febbraio, questa targa. Vittorio era impossibilitato a partecipare, gliela consegniamo oggi, lo premiamo oggi, quindi al dottor Vittorio Cecchigori, riconoscimento alla carriera professionale, quale figura di rilievo nel cinema, nel calcio e nella imprenditoria in generale, sia in Italia che all'estero. Grazie da Aristodan dello Zodioca e dall'Associazione Internazionale Calabria in the World. Grazie, grazie. Grazie Vittorio per tutta la tua storia, per tutto quello che hai rappresentato con noi, per come ci hai difeso nei momenti difficili. Grazie. È una grande persona. Io ne ho, abbiamo tratto questa visione, insomma, è una grande storia la nostra, eccoci qua. Una musica per accompagnarlo, perché ha fatto molti film a lui con noi. Dottor Vittorio Cecchigori, grazie. Grazie.